Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Armando e te lo recensiono. Sì, è passato un po' di tempo dall'ultima recensione, mi sto rimettendo in carreggiata e voglio farlo mostrandorvi questo pacchettino. Ok, per chi non conoscesse questa marca, stiamo parlando del A6S Pro Mid Pods, dovrebbero essere la copia delle Air Buds, quelle lì della Xiaomi, infatti la confezione è arrivata da Aliexpress ragazzi, è alquanto distrutta, sì, è alquanto distrutta. Al di là della questione che lo scatolino della confezione è completamente distrutto, possiamo vedere che comunque è molto simile a quelle delle Air Buds della Xiaomi. Comunque, queste qui sono True Wireless Headset Wireless 5.3, spero siano così. Dalla confezione, se vi arriva Integra d'Aliexpress, troverete il tutto così, così con il manuale di istruzioni dietro, ma abbiamo il case, che è anche la power bank, abbiamo le due cuffiette con un solo tipo di gommino, quindi non abbiamo la possibilità di poter scegliere qua le misurazioni, quindi o ci sta bene questa o ci sta bene questa. Le si inseriscono le cuffiette dentro la power bank e vediamo che hanno già la funzione del caricamento. A differenza degli altri che si trovano in mercato, qua non bisogna premere nessun pulsante, quindi nel momento in cui le cuffiette si sono caricate, si spegne in automatico anche tutto. Qui ci sono quattro LED che indicano lo stato della power bank e dovrebbe, dico dovrebbe, io ci ho provato, riuscire a caricare quattro volte USB, micro USB. Non ha la ricarica USB-C, però per questo tipo di aggeggino va più che bene. Inoltre c'è il famosissimo librettino di istruzioni, come potete vedere wireless headset, ci sono i vari simboli che vi fanno capire, le varie figure che vi fanno capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Ve le leggo un attimo qui, anche se non si legge benissimo. Allora, abbiamo la possibilità di accendere e spegnere, si collegano in automatico prendendole tutte e due o una alla volta. Oltre il play-pausa, che si può fare con entrambi, se si preme due volte la cuffietta in fase di ascolto, si può aumentare il volume, due volte a destra si abbassa. Abbiamo, come dice anche qui sulle istruzioni, abbiamo la possibilità di rispondere alle telefonate premendo in fase di chiamata una sola volta la cuffietta, tenendo premuto si spegne, oppure se premiamo tre volte, uno, due, tre, arriva il comando vocale. Ho inserito le cuffiette, sono in ear, quindi hanno un buon isolamento acustico, già per il fatto che comunque stanno all'interno con i commini. Ho iniziato ad ascoltare un pochettino di musica, ho messo Michael Bublé e in questo momento voi non potete ascoltare, però il volume è basso, è a metà, il volume è a metà e non voglio dire che mi sto stonando, ma quasi, quindi per quanto riguarda questo va più che bene. provo a fare una telefonata vedendo se si sente o meno, non ho la possibilità in questo momento di potervi far ascoltare l'audio, quindi spero che mi crediate. Proviamo. Al momento lo squillo si sente bene. Uè, mi senti? Mi senti bene con qualche disturbo? O... Ok, va bene. Grazie. Sì, che stai? A fare la spesa? Ah, va buono. Ok, ciao. Va bene. Ciao, ciao. Stranamente, dall'altra parte si è sentito benissimo. Io non ho avuto frusci, nessun tipo di problema all'interno delle cuffie, la voce era nitida e ragazzi le ho pagate un euro e 82 con le offerte di Aliexpress. Quindi un euro e 82? Ok, ho detto ci provo e personalmente se riesco a fare anche le telefonate vanno più che bene. quando avete finito che non le volete più le prendete e le rimettete qua dentro chiudete il pacchettino ve lo mettete in tasca e tranquillamente potete andare ovunque. Quanto possono durare nel tempo? Ragazzi, non lo so ma per un euro e 82 vi ripeto secondo me sono più che sufficienti per poter avere un paio di cuffiette che a parer mio servono solo ed esclusivamente per ascoltare la musica non di più. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le mie future recensioni. In tutto questo voi le avete? Le avete utilizzate? Fatemi sapere se avete avuto problemi o avete usufruito di questo offerto o se le avete pagate di più o di meno. Va bene? Un bacio ragazzi alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!